Prego. Buongiorno Presidente Draghi, benvenuto. C'è stato un passaggio del suo discorso ieri al Senato che mi ha colpito davvero tantissimo. Ed è stato quando lei ha detto che l'Italia ha questa strana situazione di avere una reputazione molto migliore all'estero di quanto non l'abbiamo a casa nostra. E devo dire che quando l'ho sentita pronunziare questa frase mi ha colpito perché ho pensato che sono perfettamente d'accordo. Io ho vissuto all'estero per tanti anni, ho avuto l'onore e il privilegio di accompagnare le nostre imprese in giro per il mondo. E ogni volta che mi sono trovato all'estero con i nostri imprenditori siamo sempre stati accolti, non soltanto come gli italiani brava gente, quelli della buona qualità della vita. Siamo stati ricevuti con tutti gli onori e la considerazione di un Paese con il quale si vuole avere una relazione profonda, con il quale si vuole lavorare, con il quale si vuole avere una partnership. Noi siamo riconosciuti in tutto il mondo per questa nostra grandissima capacità di saper fare le cose. Siamo la seconda manifattura d'Europa, si dice, e manifattura vuol dire saper fare le cose con le mani, saper fare cose belle da toccare, belle da annusare, belle da gustare, belle da vedere. Noi abbiamo una tradizione manifatturiera incredibile che ci viene riconosciuta dappertutto e che dobbiamo proteggere e tutelare. Il nostro Made in Italy è desiderato in tutto il mondo. E siamo anche riconosciuti non solo per le cose che facciamo con le mani, ma anche per le cose che facciamo con la testa. I nostri studenti, i nostri ricercatori, i nostri scienziati sono contesi in tutto il mondo. E questo per una ragione specifica, è che siamo un Paese autorevole. Siamo un Paese autorevole. E la nostra autorevolezza è fatta da molte cose, da molti concetti, uno dei quali si traduce benissimo con una parola inglese che, come succede qualche volta con le parole inglesi, è difficile da tradurre, perché ci conduce un po' fuori strada. E la parola è predictability, to be predictable, essere prevedibili. In italiano suona un po' noioso, diciamoci la verità. Prevedibile è uno che si sa già cosa farà, uno un po' grigio. Invece prevedibile vuol dire essere conseguenti, almeno all'estero, conseguenti con le proprie azioni rispetto alle proprie parole, significa non essere erratici nei propri comportamenti. In una parola è come essere nel traffico e quando si deve girare si deve mettere la freccia per evitare che chi ci sta dietro ci arrivi addosso. Ebbene, a noi questa predictability in questi anni, soprattutto in questa legislatura, è molto mancata. Noi siamo stati il Paese il cui Presidente del Consiglio, nell'aula solenne dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha rivendicato il populismo e il sovranismo, salvo poi diventare dopo qualche tempo la massima sintesi del progressismo italiano. Siamo coloro i quali hanno firmato uno sciagurato accordo con la Cina, un accordo che doveva essere commerciale, ma era un accordo tutto politico, che ha spiazzato i nostri alleati. Siamo quelli che hanno annunciato di firmare il Global Migration Compact e poi non l'hanno fatto mai. Siamo quelli che hanno impedito il riconoscimento di Juan Guaidó come Presidente del Venezuela, perché si trattava di intromettersi negli affari interni di uno Stato, salvo poi andare in Francia a dare incoraggiamento ai gile gialli che mettevano a ferro e a fuoco i nostri amici e vicini francesi. Ora, io apprezzo molto le evoluzioni. Ho avuto anche modo di dirlo al Ministro Di Maio, che quando si evolve, secondo me, questa è un'ottima cosa. E tuttavia questo ha colpito la nostra credibilità, l'assenza di predictability. Invece io penso che questo Governo, se ha un elemento di discontinuità, è proprio in questo che restituisce al Paese credibilità internazionale. Lo fa grazie alla sua biografia, signor Presidente, alle cose che ha fatto, alle cose che ha detto, alle cose che hanno costellato la sua carriera, ma lo fa anche per le parole che ha detto ieri al Senato, ha parlato di una scelta irreversibile dell'euro, ha detto siamo ancorati, che bella parola, siamo ancorati all'Unione Europea, siamo ancorati all'Alleanza Atlantica, siamo ancorati all'ONU. Questo è un modo di recuperare credibilità ed è un'opportunità che, come tutte le opportunità, costituisce anche una responsabilità, perché quando hai un'opportunità e la sprechi, quella è una grande responsabilità. Noi dovremmo utilizzare questa opportunità di essere tornati in prima fila nella politica internazionale, sulla scena internazionale, per fare delle cose importanti, la prima delle quali è posizionare l'Italia tra quelli che fanno il tifo per il progresso, quelli che, nonostante sappiano che le cose possono andare orribilmente male, la pandemia ce lo sta dimostrando, nel grande schema delle cose l'umanità è destinata ad andare avanti e oggi stiamo meglio di ieri, il presente è meglio del passato e dobbiamo essere quelli che in modo indefesso lavorano per fare in modo che il futuro sia meglio del presente. Dobbiamo essere lì, dobbiamo essere in prima fila per difendere i diritti umani. Io la ringrazio per quello che ha detto ieri, lei ha parlato della Russia, ma io voglio ricordare la Bielorussia, voglio ricordare la situazione della comunità LGBT in Cecenia, le persecuzioni nello Xinjiang, quello che sta succedendo in Birmania, in Turchia, in Egitto, se ne potrebbero dire molte. E essere in prima linea per i diritti significa anche essere dalla parte del multilateralismo, essere dalla parte della cooperazione internazionale, essere contro ogni protezionismo. C'era un pensatore francese dell'Ottocento, Frédéric Bastiat, che diceva che dove passano le merci non passano gli eserciti. E per noi italiani, questo deve essere la cosa più importante, noi siamo un grande Paese esportatore. Il commercio internazionale, lo sappiamo, è diventato un fattore di politica estera e noi dobbiamo essere dalla parte di un commercio che sia equo e che sia libero, essere contro il protezionismo, essere per un mondo aperto, capire e dire con forza che l'Italia prospera in un mondo fatto di ponti e non di muri e l'Italia langue e deperisce in un mondo chiuso. Questa è una delle cose che ci portiamo in eredità dalla pandemia. E questo senso dell'apertura, signor Presidente, non è soltanto una cosa per anime belle. Io credo che questo senso dell'apertura, della costruzione di un mondo dove l'Italia è in prima fila in questa battaglia con la sua autorevolezza e la sua credibilità, servono anche a rendere il nostro Paese più prospero, non soltanto con le nostre esportazioni. Noi siamo uno dei più grandi Paesi esportatori al mondo, con la capacità di attrarre investimenti, ma questa credibilità e questa autorevolezza oggi ci conducono a pagare, anche grazie a lei e alla nomina del suo Governo, molti meno interessi sul debito pubblico, che significa che abbiamo soldi da utilizzare per fare cose più utili. Ci consentirà di avere i 209 miliardi di recovery plan che, ricordiamolo, non sono garantiti affatto. Non li abbiamo già in tasca. Noi dovremmo meritarceli, superando il vaglio severo delle istituzioni europee. Servirà tutto questo a fare le cose che ci ha raccontato ieri in Senato, a portare avanti le donne, i nostri ragazzi, la scuola, un pianeta migliore. La prosperità è questo, è anche saper avere la forza di fare delle riforme. E allora voglio chiudere dicendo questo. Noi abbiamo una grande possibilità per utilizzare questa ritrovata credibilità e ritrovare questa ritrovata autorevolezza che è il G20, People, Planet and Prosperity, lo ho ricordato anche ieri. Io penso che il fatto che noi ci presentiamo al G20 come un Paese che è consapevole della propria pluralità, ma che davanti a un'emergenza di questo genere trova la forza e lo scatto di reni per affrontare le difficoltà unite sarà una grande opportunità non soltanto per l'Italia e per l'Europa, ma credo anche per il resto del mondo. Grazie.